buonasera a tutti quanti ragazzi benvenuti nel canale gameplays un saluto al vostro amico salvo ieri ho pubblicato una videoclip che alcuni miei iscritti mi chiedevano se potevo realizzare una guida non ufficiale di elder ring visto che io l'ho platinato e praticamente ho scoperto tutto quanto sul gioco ragazzi quindi avendo pubblicato nella videoclip praticamente non mi aspettavo un grandissimo successo che ha avuto mi avete scritto in tantissimi ragazzi vi ringrazio tuttora sia sul canale che anche sui miei social dicendomi di realizzarla quindi voglio informarmi tutti voi che partete questo video clip ragazzi noi inizieremo sabato sera alle 20 e faremo fino a tarda serata e poi gli altri giorni successivi sempre di sera quindi io vi ringrazio visto che volete che io la realizzi per davvero questa guida non ufficiale per me sarà un motivo di piacere aiutare tutti quanti voi quindi la inizieremo come vi ho detto sabato sera alle 20 fate un passaparola ragazzi vi aspetto in tanti quindi come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale un bel like sul videoclip grazie ragazzi quindi ci vediamo sabato sera ciao a tutti ragazzi alla prossima